Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento in lana Merinos invernale di Oxiborne. Vedremo un pantalone, una maglia e i calzini. Ma iniziamo subito la recensione completa così vediamo pregi e difetti. Iniziamo dai pantaloni, modello Swash, poi come al solito in descrizione vi lascio il link a tutti i prodotti di cui parliamo. Questo pantalone è realizzato al 62% in lana Merinos e il 38% in nylon. Mi aspettavo un pochino di più di percentuali di lana Merinos e meno in nylon. Però diciamo che non è neanche tanto male, perché comunque avendo una percentuale così alta di nylon il prodotto tende ad essere molto durevole e anche difficile da rompere. Quindi diciamo che dai, alla fine ci può anche stare, soprattutto perché la cosa che mi ha stupito di più di questo kit completo in questo caso è la sua termicità. Vi assicuro che ho utilizzato questi pantaloni correndo praticamente dal sole al freddo, perché questo pantalone è dichiarato dai più 10 ai meno 20. A più 10 si tende un po' a sudare, non ve lo nascondo, si tende un po' a sudare. Però è impressionante davvero quando magari usciamo a correre e iniziamo a correre magari a 5 o 6 gradi, faccio un esempio, magari a mezzogiorno, e finiamo di correre alle 7 di sera, che ce ne sono meno 10 perché è calato il sole, non riusciamo a correre senza dover utilizzare un secondo strato da mettere sopra il pantalone o comunque non avremo mai freddo e questa caratteristica mi è piaciuta davvero tanto. A livello di vestibilità sono aderenti ma non stringono. Sono aderenti nel senso che comunque quando corriamo anche dopo tante ore non cadono, però non hanno quell'effetto compressione, tanto che oxyburn come compressione dà 1 molto bassa. E anche questo io personalmente l'ho particolarmente apprezzato perché cose che stringono troppo, a me a meno personalmente, non mi sono mai piaciute. Poi questo sta molto al nostro giudizio personale. A livello di cuciture queste sono esterne, comunque non si sentono, non si sentono quel poco che c'è all'interno. Io non ho avuto punti di frizione, punti in cui magari è diventata rossa la pelle, non ho avuto nessun tipo di fastidio. Quindi anche da questo punto di vista fatti molto molto bene. A livello di vita il pantalone è abbastanza alto, tende ad arrivare fin sopra l'ombelico. Anche qua sinceramente non mi dispiace perché comunque il materiale è buono, l'elasticità è buona e non ci infastidisce mentre corriamo. E soprattutto essendo un pochino alto va anche a proteggerci un po' la pancia che non è mai una cattiva cosa. A livello di taglie, diciamo che le taglie sono un pochino grossolane, non troviamo proprio sml. Io ho preso la taglia M barra L e mi sono trovato molto molto bene a livello sia di lunghezza del pantalone sia a livello di elasticità. A livello di prezzo non scherziamo perché comunque per questo pantalone si pagano 68 euro. Ne vale la pena? Secondo me sì. Ne vale la pena perché comunque abbiamo un capo fatto bene, con un'ottima termicità, un capo anche polivalente. Perché l'ho utilizzato per fare trail running, l'ho utilizzato per farci escursionismo, alpinismo, potrebbe andar bene anche per farci sci alpinismo. Quindi va bene davvero per tanti tipi di sport e soprattutto anche quando l'ho lavato, dopo diversi lavaggi, non è andato a perdere la sua elasticità, non è andato a perdere niente dal punto di vista dei materiali, quindi anche i materiali ne valgono la pena. Passiamo a parlare della maglia, modello coverage, a livello di materiali uguali, identica al pantalone, quindi un 62% di donna merino e un 38% di nylon. Anche lei ottima dal punto di vista della durabilità dei materiali, in nylon anche qua svolge un ottimo lavoro. Anche dal punto di vista della termicità, questa maglia come il pantalone la possiamo usare dai meno 20 ai più 10 e ha le stesse identiche performance del pantalone, quindi più 10 iniziamo a sudare abbastanza, però pian piano che scende la temperatura ci troviamo veramente molto bene. Anche qua, a livello di cuciture, queste sono esterne e non ho avuto nessun tipo di problema di rossore, di fastidio, davvero utilizzato anche per tante 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 ore, per 10 ore consecutive anche la maglia, non mi ha dato nessun tipo di problema. A livello di vestibilità, come per i pantaloni ho preso la taglia M barra L e anche qua lunghezza ci siamo, avrei preferito magari un collo un pochino più alto, qualche centimetro più alto proprio per potermi tenere al caldo anche un pochino il collo e comunque anche a livello di lunghezza delle maniche va più che bene, quindi le taglie sono azzeccate. Per quanto riguarda il prezzo questa costa ancora di più dei pantaloni, parliamo di 83 euro, però ripeto anche qua secondo me ne vale la spesa, cioè io vi assicuro che utilizzare un capo del genere da poter partire a correre a mezzogiorno e finire alle 10 di sera, che anche se ci sono 15 gradi di sbalzo non abbiamo problemi di dover utilizzare secondi strati, dover stare a cambiarci e via dicendo, è davvero tanta roba. È uno di quei capi che costano, perché comunque costa parecchio, ma le performance sono davvero alte. Arriviamo infine a parlare dei calzini. Anche loro calzini fatti in lana Merinos, anche loro polivalenti li ho utilizzati per tanti tipi di sport, dal trail all'escursionismo all'alpinismo e non ho avuto nessun problema. Sono molto rinforzati su tutta la parte della punta e del tallone, sono anche molto alti, arrivano sotto il ginocchio. Io personalmente apprezzo sempre questo tipo di calzatura perché ci copre molto la gamba e ci tiene molto al caldo. Utilizzati anche per tante ore non mi hanno creato vesciche, non mi hanno creato punti di frizione, non mi hanno creato rossori, quindi anche qua la bontà di questa lana Merino utilizzata da Oxiborne si conferma anche nei calzini. A livello di durabilità anche loro sono fatte molto molto bene, io l'ho utilizzata molto spesso questa calza tanto quanto tutto il resto del kit e non ho avuto problemi di punti magari sul davanti che si andavano a rompere e veniva fuori il classico buco sulle unghie del piede, niente. Davvero anche a livello di materiali questi calzini sono fatti molto molto bene. Per quanto riguarda le taglie anche qua sono divise in S, M, L e XL, io per il mio 47 naturalmente ho preso la XL. Essendo elastiche riusciamo bene a giostrarci con le taglie, naturalmente poi per scegliere la taglia giusta ho andato a provarli oppure utilizzate il selettore di taglie presente sul sito di Oxiborne. A livello di prezzo questi calzini costano 20 euro. Io sinceramente ve li consiglio anche perché ci sono marche molto più economiche che hanno un prezzo molto simile e vi assicuro che in una calza del genere si sente la differenza quando corriamo nella neve e quando magari andiamo al freddo ma freddo freddo a meno 15 o sotto quindi sì anche il calzino secondo me ne vale la spesa. Arriviamo alle conclusioni per questo set di Oxiborne in lana merino come dicevamo maglia, pantalone e calzino. È un set che costa, come dicevo abbiamo dei prezzi abbastanza alti, sforiamo tranquillamente i 150 euro per comprarlo tutto però secondo me ne vale la pena, ne vale la pena perché è durevole e secondo me possiamo utilizzarlo per diversi anni e anche l'elasticità non andrà a perdere perché comunque la percentuale di nylon è abbastanza alta. Ha un'ottima termicità, come dicevo sia il pantalone che la maglia davvero mi hanno stupito da questo punto di vista. Si possono usare per tanti sport quindi noi con un singolo acquisto possiamo utilizzarlo per fare tante discipline di sport invernale e infine comunque la qualità dei materiali utilizzati una volta indossati perché comunque per non avere frizioni, sfregamenti, irritazioni dopo che abbiamo utilizzato questo capo anche per 12 ore e passa beh comunque ho il capo di avere una certa qualità e anche un certo costo quindi io personalmente questo set ve lo consiglio. Detto ciò ragazzi, io ne ho speranza di essere stato esauramente esotivo anche per questo video vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!